Natale in casa Cupiello, oggi per la commedia di Edoardo doppio appuntamento su Rai 3 La commedia tragicomica scritta da Edoardo sarà trasmessa da Rai 3 con un doppio appuntamento in mattinata ed in tarda serata. Natale in casa Cupiello, il capolavoro di Edoardo De Filippo, è uno degli immancabili appuntamenti nei palinsesti natalizi televisivi, quest'anno la Rai ha deciso di raddoppiare la messa in onda della nota commedia portata in scena per la prima volta il 25 dicembre 1931 come atto unico. Te piace o presepe, il tormentone che è Luca Riello ripete più volte al figlio Nennillo, la lettera di Natale scritta da quest'ultimo sono solo alcuni dei tanti momenti che hanno reso la commedia di Edoardo un capolavoro unico nel suo genere. La storia, in tre atti, si svolge nell'arco di cinque giorni a ridosso del Natale. Impegnato con la realizzazione del suo presepe, l'anziano Luca Cupiello non si rende conto che la sua famiglia sta per andare incontro ad un Natale esplosivo. Non bastano i continui bisticci tra lui, suo figlio Nennillo, uno ragazzone immaturo e capriccioso col vizietto del furto, e suo fratello Pasqualino, un signore di mezza età dal carattere irascibile che vive con loro. Sua figlia Ninuccia, una giovane dal carattere appassionato e sanguigno, sta per lasciare suo marito Nicolino, un commerciante benestante ma rozzo insensibile, perché innamorata del suo amante, Vittorio Alia. In tutto questo, la moglie di Luca, Concetta, cerca inutilmente di tenere a freno le intemperanze di tutti, onde evitare che la famiglia si spasci.